Buonasera a tutti, benvenuti, pallo ovale, il nostro settimanale di regui sugli aironi, aironi impegnati nel secondo turno del girone di Heineken Cup, sonora sconfitta in trasferta in terra francese, 54 a 3 contro il Clermont che festeggiava i cent'anni di storia del suo club e dal loro punto di vista meglio di così non si poteva festeggiare, ne parliamo questa sera con Alessandro Soragna, ciao Alessandro. Ciao Enrico, un saluto a casa. Gradito ritorno di Mario Savi, ottimo pilone del nostro rugby di Adana e ne parliamo con Roberto Quartarovici, protagonista della sfida proprio in terra francese, prima di vedere le immagini della sintesi vi do alcuni numeri e alcuni risultati di questo turno di Heineken Cup, seconda giornata, abbiamo i Cardiff Blues che hanno vinto 24-18 in casa contro i London Irish, l'Edimburgo contro il Racing Metro ha vinto di un punto dopo una grande rimonda da 48 a 47, partita ricca di emozioni, c'è la vittoria fuori casa degli Scarlet contro i Saints, il pareggio 26-26 del Benetton Treviso contro gli Ospreys, Biarritz contro Saracens 15 a 10, vittoria del Biarritz, il Castor perde in casa i tre punti col Manster 24-27, Manster che vince ancora con un drop allo scadere, Gloucester contro Arlequins 9 a 28, Connacht contro Tolosa 10 a 36, vittoria dei francesi, vittoria dei Tigers contro l'Alster sempre nel girone degli Eroni per 20 a 9, poi abbiamo il Leinster che vince contro Glasgow 38 a 13 e poi abbiamo il Bat che vince 16 a 13 contro i francesi del Montpellier, andiamo dunque adesso a vedere le immagini della nostra sintesi della sfida di venerdì scorso, Clermont contro Aironi Stadio Marcel Michelin, Clermont Ferran per la seconda round di Heineken Cup, Pool 4, Clermont Tuverni contro Aironi, Aironi che si schierano in campo contro Visan, Sinotti, Quartaroli, Pavane, Venditti, Orchera, Kitz, Villieu, Ensole, Furno, Bortolami, Geldan e Staibano, Dapice, Aghero, tre stranieri per gli Aironi, ben otto nella quindici titolare per la formazione transalpina agli ordini in Van Cotter. Sì, alcune defezioni importanti a parte degli Aironi, la prima su tutte è ovviamente quella del numero 8 Williams che starà fermo due mesi, probabilmente abbondanti per un problema alla spalla, si gioca a Clermont quando il Clermont festeggia i cent'anni di storia di questo glorioso club transalpino. Kick-off da parte di Brock James, Aironi dunque già chiamati alla raccolta con Marco Bortolami, presa ma poi si passa subito ad una tush sui 5 metri degli Aironi, buono il gioco tra le due seconde linee con Jacquet che poi porta a terra l'ovale, apertura per i tre quarti, Liburn che riesce a fare strada, rotola e con un movimento unico va a schiacciare la meta quando sono passati solo 10 minuti. 10 minuti e Liburn che riesce a trovare il vantaggio sul placcaggio di Venditti e poi nel rotolare riesce a portare l'ovale oltre la linea di meta senza che gli Aironi possano evitarlo e Parra trasforma il 7-0 al decimo minuto. Partenza dunque d'indica per gli Aironi che provano a rispondere ma siamo nella metà campo francese, c'è un fallo ravvisato dall'arbitro Doyle inglese e quindi Orker ha la possibilità della piazzola e centra i pali, tre punti per gli Aironi, 7-3 dunque il parziale. Piccolo boccato d'ossigeno per la nostra Farchigia che poi vedete torna subito sulla difensiva quando l'ala del Clermont cerca di portare l'ovale al di là della linea dopo un raggruppamento vicinissimo appunto alla linea, Trevisan riesce a mettere una mano sotto Naka Itachi, sotto l'ovale schiacciato da Naka Itachi e l'arbitro dopo la consultazione con il TMO non concede la meta, anzi dà in avanti quindi mischia per gli Aironi. Eroni dunque che si salvano ma sono ancora sotto, ancora Clermont che fa strada con gli avanti, c'è Parra che prova a estrarre l'ovale, tutto buono per l'arbitro Doyle, allora ci pensa il terza linea sudafricano Voslo che va a schiacciare in meta, ancora il TMO, questa volta nulla, il tentativo di Orker di mettere il piede sotto l'ovale riesce con la spalla a schiacciare e quindi seconda meta per i Clermont, Parra tranquillo ai pali, altri due punti per la trasformazione. Seconda crepa trovata dunque nella difesa degli Aironi, ancora messa alla prova da questa splendida azione del tallonatore del Clermont che guardate finta la percussione poi con un calcetto millimetrico, Paolo riesce a trovare Brock James a schiacciare l'ovale in linea di meta, bellissima questa finalizzazione a parte di Clermont, trasformata ancora una volta dal precisissimo Parra, 21 a 3 e il Clermont che vedete gioca in ogni parte del campo, vedete parte dei propri 22 Bonner e i Transalpini che si distendono benissimo fino ai 22 della nostra franchigia finché il pallone arriva al pilone De Batin in piena corsa, non riesce a controllarlo però nonostante arrivi a schiacciare in meta l'albitro dice vedete che c'è stato un in avanti, su questo in avanti si conclude la prima frazione di gara, ora gli Aironi sono chiamati alla riscossa, guadagnano una punizione, una tuscia, 5 metri che però il Clermont riesce a rubare, sfuma dunque la prima occasione di meta per gli Aironi. Ancora Clermont all'attacco, siamo ormai a ridosso della linea di meta, gli avanti provano a sfondare e riescono a varcare con il terzo centro della nazionale francese Bonner, veramente ottima la prestazione del terza linea transalpino, Parra ovviamente dai pali riesce, poi c'è questa bellissima combinazione tra Jacquet e di flanker portoghese, Bardin prima fase con la terza linea che va a schiacciare benissimo in meta, la rivediamo nella riproposizione questa splendida combinazione, Aironi però messi male in difesa anche se ottima la giocata della formazione transalpina, Parra dalla piazzola ancora preciso. Ottimo lo schema per questa quinta meta da parte del Clermont che ancora insiste, vediamo gli Aironi rubare bene, una tuscia in difesa, cercare il contrattacco, ancora Kitz ad aprire per Furno schierato in terza linea, Gelden usa a pulire ma l'ovale sfugge al controllo degli Aironi, torna in possesso tra le mani del Clermont, canale che passa all'ala Butin che vedete bellissima la finta sulla nostra ala Tognolatti, entrata al decimo nel secondo tempo e va a schiacciarlo, vale in meta, vedete bello il cambio di passo di direzione, trova il buco e si tuffa in meta e qui abbiamo Brock James che stavolta sbaglia la trasformazione. Siamo al diciassettesimo del secondo tempo. Padroni di casa che non si accontentano, Ziracashvili si sbarazza del tentativo da parte di Ferrarini di placcaggio, quindi ancora Clermont che riesce a fare strada, Liburn siamo ben all'interno dei 22 degli Aironi, si torna dalle parti del pilone belga De Baty che fa strada, linea dei 5 metri e ora Fofanà che riceve e va a varcare oltre la linea di meta. Ancora Clermont che è in fase d'attacco, pochi metri dalla linea di meta degli Aironi, si fa a strada, stiamo difendendo, gli Aironi difendono ad oltranza questa ovale, questa azione ma si va a largo con Mathieu che poi riesce a mettere il fisico e andare oltre la difesa dell'estremo. Oltava meta per il Clermont che ha voluto festeggiare fino alla fine e rendere onore alla propria storia, al proprio pubblico, 8 mette dunque, 54 a 3 risultato finale con la trasformazione ultima da parte di Brock James, dunque una gran lezione di rugby da parte del Clermont, troppo alto il ritmo, l'aggressività, la fisicità della squadra francese per i nostri ai Aironi, il pilone debati e man of the match. Eccoci rientrati in studio, studio allestito presso la Clubhouse degli Aironi, vent e acqua, abbiamo visto questa grandinata di mete, ben otto alla fine, Roberto era in campo sotto questa grandinata pesante, come la si spiega una sconfitta così, più di 50 punti presi, un brutto inizio perché comunque loro hanno cominciato fin da subito, è anche un brutto finale perché loro sono andati in meta anche negli ultimi dieci minuti anche per ben due volte, come l'hai vissuto? Sicuramente loro fin dall'inizio vorranno mettere le cose in chiaro perché non hanno mai tentato di andare ai pali, quindi prendere punti, fin dalle prime opportunità sono andati subito in tush e hanno giocato tutto quello che potevano giocare, hanno iniziato con un ritmo molto alto, erano molto termitati, venivano da una sconfitta comunque con l'Aster nel primo turno e non preventivata, esatto, era la giornata del loro centenario, penso che come li abbiamo presi noi non li poteva prendere nessuno diciamo e quindi ci hanno messo molto in difficoltà La cosa maggiore che ti rimproveri o che vi siete rimproverati come gruppo alla fine della partita, ovviamente immagino che vi siate parlati anche con i vostri allenatori, cosa è stata? Una difesa che poteva essere più incisiva, un modo di giocare che non è stato quello che eravate prefissati? Guarda, per la difesa penso che anche ci sono state delle situazioni molto in difficoltà che siamo riusciti a recuperare, ora non si è visto perché nel video abbiamo fatto vedere le azioni delle mete, però sono state delle azioni che siamo stati in grado di recuperare delle differenze numeriche, loro erano di più numericamente rispetto a noi e quindi abbiamo fatto bene, però ovviamente ti trovi in difficoltà quando non riesci ad attaccare perché abbiamo avuto poca opportunità grazie a causa della loro prestazione e poi diventa sempre più difficile perché difendi, difendi, difendi e non riesci mai ad andare avanti, a portare, ad andare sulla linea del vantaggio quando c'è le opportunità, diventa più difficile Mario, fuori dal campo, da dietro, comodamente da davanti alla televisione, come giudiche, come hai visto una partita del genere, sei d'accordo con Roberto che dice che chiunque fosse andato là sarebbe uscito con le ossa rotte, più o meno rotte diciamo? Molto probabilmente sì, avrebbero messo in difficoltà chiunque, abbiamo incontrato questa società e questa squadra in un momento nel momento meno opportuno, festeggiavano il centenario della loro squadra, della loro società, l'hanno voluto festeggiare nel modo migliore, so per certo che erano sottoposti ad una pressione molto forte da parte dei vertici societari, hanno confermato loro giocatori prima della partita ad alcuni ragazzi che erano sottoposti ad una grossa pressione. Non avevano preso bene la sconfitta contro l'Alster quindi? Assolutamente, assolutamente, avevano addosso una grande pressione per festeggiare al meglio questo centenario che era molto sentito, prova ne sia il pre-partite in cui hanno presentato giocatori, hanno richiamato giocatori storicamente, storicamente parte della loro società, insomma l'hanno voluto festeggiare in pompa magna. Non dimentichiamoci che sì, è una squadra molto forte ma non dimentichiamoci che è una squadra tra l'altro con un budget diverso rispetto al Viedano. Questa qui è una società storica con un budget di 21 milioni di euro se non erro contro, insomma. Tre volte quello degli aeroni? All'incirca tre volte, tre, quattro volte quello degli aeroni. Quindi anche in questo si spiega. Secondo me un altro punto Alessandro è che anche nei punti di incontro, gioco di parole orrendo, il Clermont ha imposto la sua legge, credo che avessero più presenza, più velocità di arrivare sul punto di incontro, anche meno uomini impiegavano nel pulire ovali a terra contro invece un maggior impegno da parte di eroni che si trovavano quindi meno a largo. Le emotività senz'altro ha giocato un ruolo importante, qui come dicevamo, come si è detto, Clermont aveva un solo risultato a disposizione, era quello di fare non bene, benissimo, quindi non dico che gli eroni fossero la vittima sacrificale, però poco si allontana e poi c'è anche da dire che gli eroni sono presentati lì anche con alcune assenze di peso, soprattutto Nick Williams tra gli altri, ma anche lo stesso Simone Favaro che nelle partite precedenti si era evidenziato come uno dei placatori più efficaci e quindi sicuramente in questo senso vengono a mancare risorse importanti, con questo non che chi ha preso il loro posto abbia giocato sotto livello, il problema è che a livello di squadra nel complesso Clermont probabilmente si avrebbe messo sotto chiunque, perché aveva una spinta incredibile, io ho avuto modo di parlare anche con il presidente Silvano Melegari, diceva che proprio all'inizio c'era questo clima incredibile che faceva venire la pelle d'occa solo a essere lì presenti. E quindi dice anche questo, no? Diciamo che il contesto ambientale non era dei più semplici per gli atleti degli eroni.